Cento, quattro e cinque, el film. Let's begin, let's begin. Allora, chi fa Thomas Millian? Io. Sandro Torella, invece Bombolo Mauro. Ciao grande Mauro. Allora, siete pronti a rivederlo? Loro fanno parte del teatro allo scalo. Ma poi è delitto al blue guy o al blue gay? Non l'ho mai capito. Paolo Roberto, vai che dobbiamo rivedere il pezzo e poi rifarlo almeno due volte. Delitto al blue gay. Blue gay perché c'erano solo gay. Sennò era blue trans o blue etero? Emilio Giordani, quit. Sentiamo cosa succede. Stiamo andando a preparare la scena, quella originale, la vediamo noi, voi la ascoltate in diretta. Vai, dai, truma. Andiamo, uh, eccola qua. Senti, siccome quello non lo possa perché io sono sbirro e lo voglio beccare, tu devi andare a chiamare Trentini e dire che vanno subito una pantera, va bene? Che numero devo fare? Tre, tre. Do numeri soli. Lasciami finire, lasciami finire. Tre, 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 quattro volte tre. Ah, tre, 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 quattro volte tre, 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 ma che ti stanno inventando? Ebbè, ebbè, e che fai? Tre, 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 quattro volte tre. Ho capito. Tre, tre, quattro, tre. Guarda, guarda, è meglio che te lo scrivo, meglio che te lo scrivo. Ah, mi vediamo, mamma mia, venticelli, guarda, tre, 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 capito adesso? Ecco, ecco, ciao, eh, sbrigare, capito? Grandissimi, grandissimi. Questo, posso aggiungere che è il più volgare di tutti i film di Thomas Miller, c'è una scena pavolosa in cui lui entra nel locale e c'è la spoglierlista. Ah, sì, sì. Cioè, è geniale quella scena. Grande! Allora, la... Luciana si ricorda solo il pezzo della spoglierlista. La sentiamo con audio originale e ridoppiato dei fratelli Torella dal teatro allo scallo, le 2.11 in diretta. Vai, lai, truma. Vai. Senti, siccome quello non lo può sapere, che io sono lo sbiro e che lo voglio beccare, tu devi andare a chiamare Trentini e dire vanno subito davanti a roma, va bene? Che numero devo fare? 3, 3. Tu numeri soli? Lasciami finire, lasciami finire. 3, 3, 3, 3, 3. 4 volte 3. Ah, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4 volte 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ma che ti stanno inventando? E beh, e beh. E che fai? 3, 3, 3, 3, 3, 4 volte 3. Ho capito, 3, 3, 4, 3. Guarda, è meglio che tu lo scrivi, va. È meglio che tu lo scrivi, va bene, mamma mia. Mamma mia, 20. Guarda, 3, 3, 3, 3, 3. Hai capito adesso? Ecco. Ciao, eh. Ciao, eh. Sbringa, hai capito? Capito. Ci siamo, questa è la scena originale con l'audio originale. Ma in questo momento sono pronti per ridoppiarla. Già così è andata bene comunque. Con audio muto, muto. Le 2.12 in diretta. Sentiamo i fratelli Torella. By Night Ruma. Azione. Senti, siccome quello non lo possa vecchi, io sono Sbirco e lo voglio beccare, tu devi andare a chiamare subito Trantini e ti domanda subito la pantera, va bene? Che numero devo fa? 3, 3. Due numeri soli? E lascia me finì, lascia me finì 3, 3, 3, 3 4 volte 3 Ah, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 4 volte 3, 3, 3, 3, 3, 3 Ma che te sta inventando? Embe, embe E che fai? 3, 3, 3, 3 4 volte 3 Ho capito 3, 3, 4, 3 Guarda, è meglio che tu lo scrivo Meglio che tu lo scrivo Ammazza, mamma mia, 20 Guarda 3, 3, 3, 3, 3 3, 3, 3 Hai capito adesso? Ecco Ciao Ciao, sbrigate Hai capito? Applauso ai fratelli Torella Dal teatro allo scalo Anche bravi perché erano sempre in sincro Dalla prima volta che l'han fatto Grande, fratelli Torella Quinti Ciao 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 Ciao